Musica Nemmeno le avverse condizioni meteorologiche hanno fatto desistere i cittadini gelesi a partecipare all'apertura della Porta Santa presso la piccola Casa della Misericordia. Dopo la celebrazione della Santa Messa in cattedrale la processione si è snodata regolarmente fino al Palazzo Regina Margherita. Un tappeto di ombrelli si è diretto nella sede nei pressi di Piazza Sant'Agostino in cui il Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, ha aperto la Porta Santa. In questo giubileo indetto da Papa Francesco e dedicato alla Divina Misericordia dunque anche Gela avrà la sua Porta Santa che rimarrà aperta a quanti lo vorranno fino al 6 novembre prossimo. Grande la commozione del Vescovo Monsignor Rosario Gisana. La Porta della Misericordia che in un certo senso è una esplicazione della Porta Santa e che con oggi abbiamo voluto inaugurare una serie di aperture che faremo in tutta la Diocesi nei luoghi dove diciamo non solo si pratica la misericordia ma anche diventa ispiratrice per assumere uno stile di vita ben preciso. Tutte le volte in cui pensiamo alla misericordia del Signore pensiamo a due aspetti della sua presenza nella nostra condizione umana. La prima è il perdono che noi accogliamo dal Signore in maniera gratuita, senza condizioni, senza bisogno di corrispondenze. E dall'altra è l'atto di carità che noi compiamo nei confronti delle persone bisognose. Dietro tutto questo c'è il desiderio di far capire alla gente quanto Dio sia veramente vicino a noi, in modo particolare a quelle persone che vivono una situazione di emarginazione. Evidentemente è chiaro che la nostra città come anche le città della nostra Diocesi sono in qualche modo un po' segnate da tante condizioni di bisogno. È un simbolo, come giustamente è stato detto, un simbolo che desidera richiamare quello che Papa Francesco sta mettendo in evidenza e che è una sottolineatura ulteriore di quello che Gesù disse in maniera molto aperta e direi decisiva nei confronti degli scribe e dei farisei. E cioè che la nostra attenzione deve essere rivolta all'uomo e in modo particolare all'uomo bisognoso. È un messaggio di speranza che il Santo Padre Francesco ci ha voluto donare attraverso il Giubileo straordinario. straordinario non soltanto perché capita, il Papa l'ha indetto 25-50 anni prima, ma perché è un anno straordinario di grazia. Il Papa non vuole che si celebri il Giubileo attraverso delle celebrazioni solenne, ma che si attenzionano i poveri, i piccoli, gli umili. Vertenza Gela ancora senza nessuna soluzione in vista. Con una nota inviata alla stampa, CGL Cisle Will, congiuntamente alle segreterie delle federazioni dei metalmeccanici FIOM, FIM, WILM, denunciano la latitanza del Governo nazionale rispetto ai drammi occupazionali che Gela sta attraversando, ulteriormente appesantiti dal silenzio che caratterizza questa fase della vita del Governo rispetto ad un tema specifico, cioè riempire di contenuti il decreto area di crisi complesse, tutte le misure derogatorie in grado di ammortizzare sotto il profilo occupazionale e quindi socio-economiche, il malessere che di giorno in giorno investe ai lavoratori. CGL Cisle Will si legge ancora nel documento, hanno la certezza che se c'è una reale volontà politica la vertenza Gela può essere risolta e la volontà politica dovrebbe vedere anche l'interesse dei tre deputati nazionali eletti in provincia di Caltanissetta, Cancelleri, Cardinale e Pagano, ai quali è stata indirizzata la lettera nella quale anche il Comune e la Regione chiedevano un sostegno economico per risollevare Gela da una situazione che più volte tra l'altro ha visto venir meno l'ordine pubblico. Leni scrivono ancora i segretari generali CGL Cisle Will, Giudice, Gallo e Castania a tutti i livelli ha il dovere di illustrare con più vigore, determinazione e chiarezza a tutte le imprese che fanno parte della sua lista fornitori che tra i compiti di ogni impresa c'è anche il ruolo sociale, motivo che ci induce ad un appello al buonsenso in un mondo che ha legittimamente goduto nell'ultimo trentennio di grandi commesse e che oggi, dentro alla più grande crisi mondiale, deve dimostrare di essere impresa. Il sindacato, con tutte le categorie, seppur solo e con zero poteri per modificare le leggi attuali, chiede ad alta voce alla politica e a tutti i partiti di intervenire per evitare la morte dell'industria del Sud. E intanto il 20 gennaio prossimo si fermeranno tutti i dipendenti del gruppo Eni presenti in città. Le sigle sindacali di Filchtem, Femca, Wiltec e UGL Chimici aderiscono infatti allo sciopero nazionale indetto nelle scorse settimane. Gli impianti verranno messi in sicurezza. C'è il timore che il gruppo Eni voglia man mano di smettere, di iniziare proprio dalla raffineria di Contrada Piana del Signore. Questa volta però non si fermeranno soltanto gli operai della multinazionale, ma verranno fermati anche processi produttivi dagli impianti di raffineria ai pozzi Enimed. Abbiamo già chiesto un incontro ai responsabili aziendali, spiega il segretario provinciale della Femca CISL, Francesco Emiliani. Chiederemo l'attuazione degli assetti di sicurezza di tutti gli impianti in funzione. Giorno 20 gennaio infatti verranno fermati. Per questa ragione si pone l'esigenza di applicare tutti i protocolli di sicurezza. E così lo sciopero del 20 gennaio potrebbe essere soltanto la prima tappa di un percorso di mobilitazione più ampio. Dopo l'indotta attualmente è decimato anche i lavoratori del diretto di raffinerie, più in generale quelli del gruppo Eni, attivi in città, temono e non poco per il loro prossimo futuro occupazionale. Il bilancio è assolutamente positivo. Noi come Proloco abbiamo fatto una riunione con tutti i soci, siamo soddisfattissimi per l'ottima riuscita. Grazie ancora una volta a tutti i dirigenti scolastici, le maestre e tutti i bambini che hanno partecipato con grande entusiasmo. Questo è soltanto il secondo anno. Se tutto va come sta andando sicuramente sarà una grande tradizione geolese. Quindi felicissimi che noi come associazione Proloco abbiamo dato questo input e anche a Gela si possono visitare i presepi. E sono presepi particolari perché hanno un tema. Ogni presepe ha una sua storia e deve essere letto come viene letto un grande quadro di un artista. Volevo ringraziare la Proloco per avermi invitato. Sono felicissimo di partecipare a questa chiusura. Ho visto questo evento veramente meraviglioso, tanti presepi, tanta varietà. Il fatto di aver coinvolto anche le scuole, quindi i bambini, i più piccoli, è un grande segno per questa città che deve ripartire proprio dal basso per avere una città in futuro sempre migliore. Un evento che è stato tra i più apprezzati dai cittadini geolese, ma anche con orgoglio devo dire che l'amministrazione di Gela finalmente ha aperto il comune alla città. Ed è una bella simbiosi. Devo dire che anche il comune è sembrato per queste festività un luogo di festa, di aggregazione e non un luogo abbandonato come gli altri anni. La maternità, con le sue gioie e i suoi punti interrogativi, al centro del libro inchiesta partorirai con dolore della giornalista Rossana Campisi, presentato in città sabato pomeriggio nella sala degli oratori di Palazzo Moncada. Nove mesi fra falsi miti, consigli, passaparola di donna in donna, dubbi e perché che colgono la donna durante la gravidanza e prima del parto, ai quali la giornalista Nissena ha provato a dare una risposta aiutando le gestanti ad affrontare la maternità, evitando così le trappole del sistema sanitario. Un viaggio nei reparti di ostetrici e ginecologia degli ospedali italiani, OVE ha raccolto dati, testimonianze delle mamme, ma anche le voci dei medici ed esperti vari per fornire alle donne la chiave per tornare a essere le uniche protagoniste della propria maternità. Un tema attuale alla luce dei recenti fatti di cronaca. Parlare di parto è l'ultimo vero tema femminile, se ne parla sempre meno, se ne parla in toni un po' edulcorati e fare un po' il punto sulla situazione attuale, soprattutto nazionale, sembrava proprio necessario. Primo perché insomma siamo anche l'ultimo paese nella classifica europea per natalità, ma siamo il primo per quanto riguarda i cesarii, sono due dati abbastanza sconfortanti che ledono soprattutto la società in generale e non solo le donne, perché uno dei più grandi errori è appunto pensare che sia un tema prettamente femminile. Quindi gli aspetti salienti sostanzialmente è la conoscenza, la conoscenza che spesso viene negata, viene presentata parzialmente, ed è quella che poi crea ansie, crea disinformazione, che è alla base delle grandi paure, delle grandi ansie, e anche di quel, se vogliamo, grado di imprevedibilità che si somma a un evento potenzialmente comunque pericoloso e imprevedibile come già lo è il parto. L'autrice ha iniziato la sua esperienza di giornalista nella radiazione palermitana della Repubblica e poi approdata a Milano Ovevive e collabora con varie testate, tra cui Gioia, Vanni Tifer e Donna Moderna. Ad intervenire alla presentazione, l'assessore alla cultura Marina Castiglione, il presidente della Proloco, Giuseppe D'Antona, e le responsabili dell'associazione Allattamore. Ormai Allattamore è un punto di riferimento per le donne che si accingono a diventare mamme, grazie soprattutto alla nostra esperienza virtuale ma anche di vita reale. Infatti con i nostri gruppi WhatsApp seguiamo il prima, il durante e il dopo, quindi con i corsi preparto, quando le mamme appunto sono dubbiose e ansiose per quello che accadrà, ma anche durante il parto, sono sempre dei parti corali, dei parti condivisi, ma anche e soprattutto il postpartum che spesso lascia le mamme da sole in preda a mille dubbi e a mille ansi. Invece i nostri gruppi riescono a colmare questa solitudine delle mamme e riescono a dare sostegno per promuovere l'allattamento al seno, ma anche per promuovere stili di vita salutari e comunque consentire alle donne di condividere questo momento importante. Intense e proficue sono state le attività targate 2015 degli uomini della Capitaneria di Porto di Gela coordinati dal comandante Pietro Carosia. Un anno che ha visto i militari impegnati su diversi fronti e raggiungere molti obiettivi come spiega i nostri microfoni lo stesso comandante. 2015 ormai è passato, ne approfitto intanto per fare i miei migliori auguri a tutti i cittadini di Gela. Abbiamo messo in campo noi della Capitaneria di Porto diversi progetti e in questi progetti devo dire che siamo stati, abbiamo avuto sempre vicino molte istituzioni, ma in particolar modo devo ringraziare sentitamente la Procura della Repubblica di Gela e in particolar modo il Procuratore Capo, la Dottoressa Lucia Lotti e altrettanto devo dire per Sua Eccellenza il Prefetto di Caltanissetta, la Dottoressa Cucinotta. Il mio primo obiettivo fin dal primo momento del mio insediamento è stato quello del Porto Rifugio. Porto Rifugio che sta vedendo finalmente una nuova luce, ormai sono stati avviati tutti gli iter per quanto riguarda la caratterizzazione e il mio intendimento e grandissima speranza è che prima dell'estate i cittadini di Gela possano vedere finalmente iniziare i lavori nel nostro bel Porto Rifugio. Un altro traguardo che mi ero prefissato era quello di far uscire le Camere Coq sempre dal nostro Porto Rifugio e entro giugno scadrà il termine ultimo perché debbano uscire dal Porto e quindi anche le Camere Coq dovrebbero lasciare la città di Gela. Un altro obiettivo importante è che mi sono prefisso riavviare la possibilità di far riprendere i lavori per lo smantellamento di tutti i rifiuti ferrosi che ci sono sulla diga forranea e questo permetterà anche a ditte autorizzate e quindi a operai, a famiglie di poter ritornare a percepire uno stipendio decente. Consigliere, di questi giorni una sua interrogazione è tra gli aspetti più rilevanti, troviamo quello delle bonifiche. Le bonifiche io ho fatto un'interperlanza in base al regolamento al Presidente del Consiglio da inoltare al Signor Sindaco perché leggendo le carte e leggendo un po' le notizie giornalistiche ci sono state qualche dubbio di chi deve fare le bonifiche a Gela. Io non parlo solo delle benefiche Eni, Traffineria ma di tutte le bonifiche sul territorio. Per me le bonifiche vanno fatte chi inquina paga perché tra le carte che sto leggendo mi sorge qualche dubbio e quindi voglio che me lo chiedisca il Sindaco in Aula voglio sapere se queste bonifiche vengono fatte dall'ente che ha provocato il danno o dall'impresa che ha provocato il danno e quindi avremo una stabilità nel lavoro da parte dei lavoratori. Leggendo le carte mi sorge qualche dubbio che avremo l'affidamento diretto alle ditte che chiedono di avere queste aree e quindi andranno a bonificare le ditte terze. Non chi ha inquinato. Quindi questo dubbio chiedo al signor Sindaco che venga chiarito nell'interesse dei cittadini. Ripeto e lo voglio ripetere, non è una ripetizione fatta perché mi voglio, è una ripetizione fatta volutamente. Ai cittadini il messaggio che voglio lanciare, che voglio sapere chi fa le bonifiche. Se le bonifiche le fa chi ha inquinato assicuriamo un lavoro stabile e duraturo. Se le bonifiche le fanno altre ditte che si insediano senza che l'aria l'ha bonificato chi ha inquinato, mi sorge qualche dubbio nel tempo e nelle procedure lavorative. Consigliere, sostanzialmente l'obiettivo di questa sua conoscenza, che appunto chiede dei chiarimenti, sarebbe quello della stabilizzazione degli operai che si innesta poi in una crisi occupazionale davvero molto grave che sta vivendo questa città ormai da un po' di tempo. Sta vivendo una situazione, dire grave, e poco. Una situazione gravissima. Fare una passeggiata in piazza sta diventando quasi impossibile perché la gente non sa come vivere e come arrivare a fine giornata, non a fine mese o più. Quindi io chiedo di sapere sulle bonifiche chiarezza, voglio chiarezza, da parte dell'amministrazione comunale che è l'ente che rappresenta i cittadini. Secondo lei l'attività relativa alle bonifiche potrebbe rappresentare una nuova speranza di lavoro per questa città? È una percentuale che sicuramente permetterà di immettere sul lavoro le nostre maestranze locale senza bisogno di fare bandi un po' particolari perché una ditta potrebbe partecipare. Quello che capisco perché può essere il sindaco che mi chiarisce diversamente, quello che leggo dalle carte. Quindi io chi inguina paga. Se lo fa Leni è un conto, se lo fa l'altra ditta è un conto. Se liberiamo tutti, liberi tutti. Non è possibile. 39 anni di onorato servizio a Gela, prima come vigilo urbano e poi pian piano la carriera in questi decenni. Se dovesse tracciare un bilancio di questi decenni, che bilancio sarebbe? Il bilancio è meraviglioso perché io mi ricordo quando sono entrato a 23 anni, nel 77, ci siamo trovati alle forze fresche, una città tranquilla, una città che aveva i suoi lati di ricostruzione ambosia, il periodo proprio quando c'è fu il boom di ricostruzione ambosia. Lavoravamo fianco a fianco, tutti noi giovani con gli anziani, con il cuore, veramente, perché abbiamo fatto un concorso, ci è piaciuto, ci siamo trovati con questa meravigliosa divisa in questa grande famiglia, tutti con il cuore in mano. Il benessere ha fatto maturare nelle persone quella indisciplinatezza, quella voglia di essere spregiudicati, che si è evoluta proprio quando c'è stata la guerra di mafia, che si siamo trovati malamente qua a Gela, e storditi da queste situazioni. Niente, diciamo noi come quando possiamo anticipare, quello era un periodo in cui andavamo scemando come personale, e cercavamo ancora i nostri diritti, come pubblica sicurezza. Paradossalmente eravate meno numericamente, però erano gli anni invece in cui serviva il controllo del territorio, era davvero necessario. Eravamo, diciamo, non più gli 80 iniziali, ma sulla cinquantina, però si aspettavano sempre i concorsi, si aspettavano certi diritti magari, che ancora era il periodo che facevamo noi le lotte sindacali, andando anche a Plermo, per essere riconosciuti, perché noi eravamo agenti di PS allora. Adesso che lei è in pensione, da oggi che cosa farà? Adesso sarò un nonno a tutti gli effetti, e poi ho altri viaggetti da fare, anche perché c'è mio figlio, il piccolo, che sta facendo il corso di Marciallo della Finanza all'Aquila, e quindi sarò costretto, diciamo, per evitare di farlo scendere sempre, di tanto in tanto saliremo via e mia moglie andando all'altro. Quindi sarò impegnato sotto questo punto di vista. E se dal comando dovessero chiamarla per qualche consiglio, lei che cosa risponderà? No, io ho detto sempre a ragazzi, a disposizione. Auguri. Grazie. Compagnia Sipario 21, salviamo il salvabile per la regia di Maurizio Nicastro, si va in scena il 16 gennaio prossimo al Teatro Eschilo, con quanta emozione, è un debutto questo? È un debutto per questa compagnia, e quindi c'è tanta attenzione, tanta aspettativa, tanti amici che sono stati chiaramente coinvolti, per cui cercheremo fino all'ultimo di provare, riprovare, perché il dettaglio va curato e va curato bene. La storia? La storia salviamo il salvabile parte da un misandisterni, che c'è una cosa che non viene capita dal nipote di queste due zie ricche, e quindi su questo si innescono tante situazioni che chiaramente con gag varie, eccetera, vengono fuori i vari personaggi che compongono la commedia, perché ognuno di loro cercherà un obiettivo, di raggiungere un obiettivo. Maria Gionnone, tra i soci fondatori di questa nuova associazione che si chiama Demetra, un nome molto importante, quali sono le vostre mission? Non ci siamo soffermati solamente sul teatro, che comunque rimane l'amore per ognuno di noi, ma abbiamo pensato ad un'associazione che potesse in qualche modo dare voce a tutte le espressività artistiche e culturali presenti nel nostro territorio. Sentiremo parlare in questa associazione di musica, spettacolo di vario genere, poesie, laboratori teatrali, perché noi pensiamo che la cultura arricchisca il territorio, e magari possa anche in qualche modo, come dire, educare le coscienze proprio all'idea del bello. Proprio perché questa è un'associazione eclettica, troviamo anche il nostro Croce a Tardi, che è già noto alla nostra città per altre forme d'arte. Abbiamo organizzato delle importanti manifestazioni, delle rassegne d'arte, e adesso invece ci sperimentiamo in una nuova avventura, che è il teatro, con quale spirito? Siamo qui a fondare questa nuova associazione, questa nuova compagnia, proprio perché siamo convinti che Gela è una bellissima realtà e perciò deve essere sfruttata in tutte le sue sfaccettature. Siamo pronti per il debutto di giorno 16, vi aspettiamo, aspettiamo la città che venga in massa al teatro, perché sicuramente ne vedrete delle belle. Avranno inizio oggi le celebrazioni in onore del Santissimo Crocifisso, patrono della città di Gela, insieme a Maria Santissima dell'Alemanna. Secondo gli atti del processo conservato nell'archivio generale della Curia dei Carmelitani di Roma e dell'Arcidiocesi di Catania, era il 27 marzo del 1602, quando il simulacro di stile bizantino, portato dai marinai terranovesi dalla Magna Grecia, iniziò a trasudare ininterrottamente sangue e acqua per cinque giorni davanti a migliaia di fedeli accorsi nella chiesa del Carmine. Diversi anni dopo, l'11 gennaio del 1693, un tremendo terremoto distrusse gran parte della Sicilia e Gela. Allora Terra Nova fu risparmiata insieme ad alcuni paesi vicini. In seguito a quest'avvenimento, l'8 marzo di quello stesso anno, il popolo gelese elesse patroni della città, il Santissimo Crocifisso e Maria Santissima d'Alemanna. Per commemorare questa ricorrenza, anche quest'anno, come da tradizione, si svolgerà il triduo di preparazione con il canto della coroncina e la celebrazione eucaristica. Il triduo sarà predicato da Don Antonino Rivoli, vicario episcopale per la liturgia della diocesi di Piazza Armerina e docente dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose. Sturzo, sabato, saranno presenti alla celebrazione i marinai che venerano il Santissimo Crocifisso come speciale protettore e domeniche cavalieri del Santo Sepolcro della sezione di Piazza Armerina. Lunedì, 11 giorno della festa, seguiranno le messe delle 6, delle 8 e delle 9. alle 10 e 30 il solenne pontificale preseduto dal Vescovo Monsignor Rosario Gisana, alle 12 la messa con il canto del Tedeum, alle 15 l'adorazione della croce, alle 17 e alle 18 e 30 le altre celebrazioni liturgiche. A conclusione, i fuochi pirotecnici. I dubbi sollevati e riferiti ieri ai nostri microfoni dal consigliere comunale indipendente Carmelo Casano su modi e soggetti che dovranno eseguire le bonifiche costituivano un'interrogazione a firma dello stesso componente dell'assise civica, regolarmente depositata e che aspettava chiarimenti da parte del primo cittadino Domenico Messinese. I dubbi iniziano a sorgere anche tra i membri della Commissione Ambiente e Sanità preseduta da Virginia Farruggia e così la stessa commissione ha acquisito l'interrogazione proposta da Carmelo Casano. La commissione però va oltre. Il presidente e i componenti Salvatore Farruggia, Maria Pingo, Crocifisso Napolitano e Giuseppe Ventura vogliono valutare l'idoneità del contenuto dell'avviso pubblico lanciato da Confindustria Centro Sicilia e volto alla scelta delle aziende che potrebbero insediarsi nelle aree di smesse Eni. Non è chiaro chi debba pagare costi di bonifica, ha spiegato il presidente Virginia Farruggia. Cercheremo di avere tutti i chiarimenti del caso anche sul piano dei criteri di scelta delle società che volessero avviare progetti in quelle stesse aree. Un altro punto scuro sono le agevolazioni fiscali da concedere a chi si insedierà. Dovrà finanziare l'ente comunale, conclude Virginia Farruggia. L'allarme lanciato ormai da qualche giorno dalla CGL di Mussomeli in merito alle inopportune scelte operate dal governo regionale dentro la riforma sanitaria ha determinato un profondo malumore nella cittadinanza di Mussomeli e preoccupazione al personale medico e paramedico dello stesso storico presidio sanitario che tra l'altro gode di una vasta utenza proveniente anche dai paesi vicini. Lo scrive in un comunicato la segreteria confederale provinciale della CGL di Caltanissetta congiuntamente alla categoria FP CGL di Caltanissetta i quali hanno chiesto e ottenuto un vertice urgente presso la prefettura di Caltanissetta che ha indetto un tavolo con i sindaci del Vallone, il direttore dell'Asp e i sindacati per una verifica immediata operata in Sicilia e nello specifico gli effetti devastanti che la riforma rischia di avere in piccoli centri ma strategici. Tutto ciò appare ancora più grave in considerazione di scelte discriminatorie operata a distanza di pochi chilometri con analoghe caratteristiche geografiche delle province interessate spiegano ancora i sindacati la CGL è fermamente convinta che bisogna ridurre i costi della sanità pubblica cioè gli sprechi e i doppioni il resto è mortificazione per i cittadini. E' utile infatti ricordare che il comune di Mussomeli rientra nella classificazione di una zona montana e che presso il predetto punto nascita sono stati effettuati 204 parti nel 2014 e 165 parti fino a ottobre 2015 prestazioni che potrebbero verosimilmente aumentare per effetto della chiusura del punto nascita di Santo Stefano di Quisquinia. CGL ed FP CGL concludono Ignazio Giudice e Giovanna Caruso sostengono le iniziative civili di lotta avviate a Mussomeli e sposteranno l'attenzione ai massimi livelli istituzionali per affrontare la questione con l'obiettivo di mantenere aperto il punto nascita di Mussomeli. Grazie a tutti i nostri spettatori